Bentornati ragazzi, sono Giovanni e oggi sono qui per parlare insieme a voi di Luca Romero. Vi ricordo anche di scaricare l'applicazione numero 10 cliccando sul primo link in descrizione, primo link in descrizione, mentre le informazioni su chi calcio sono nel primo commento del video, ok? Allora, Luca Romero, sembra che Luca Romero non rinnoverà il suo contratto con la Lazio per via delle richieste troppo alte del suo agente Ramadani, richieste di 5 milioni di euro, 5 milioni di euro. Quali sono i segnali che portano a pensare questo? Il primo segnale è che siamo praticamente a inizio maggio, il contratto di Luca Romero scade a fine giugno e ancora non si sa nulla, si sa soltanto quali sono le richieste di Ramadani e che la Lazio non ha intenzione di soddisfarle. Quindi, di conseguenza, manca poco e la sensazione è che Romero non rinnoverà. È un discorso diverso rispetto a quello di Pedro, per esempio, perché se la Lazio dovesse rinnovare il contratto di Pedro nei prossimi due mesi dovrà poi versare nelle casse della Roma un milione di euro. Il piano della Lazio è quindi quello di lasciare che Pedro vada in scadenza a fine giugno e di offrirgli un nuovo contratto a luglio come svincolato, come parametro zero. In questo caso la Lazio non dovrà versare neanche un centesimo nelle casse della Roma e quindi un'operazione volta a risparmiare un milione di euro. E a proposito di questo, la Lazio decide di portare avanti questa operazione per risparmiare un milione di euro. Immaginate che cosa farebbe con la richiesta di 5 milioni da parte di Ramadani. Ma io sarei d'accordissimo in questo caso se la Lazio decidesse di non dare i 5 milioni a Ramadani perché è una richiesta folle. Cioè, ragazzi, è una richiesta folle per un calciatore che ha appena compiuto 18 anni ed è una richiesta sproporzionata rispetto a quello che ha fatto vedere Luca Romero nella Lazio e rispetto a quanto ha giocato Luca Romero nella Lazio in questi anni. Per me è una richiesta folle. Io sarei d'accordissimo con la Lazio in questo caso. Tra l'altro, secondo segnale, il minutaggio di Luca Romero negli ultimi mesi. Il minutaggio che era aumentato grazie ai primi infortuni di Immobile pre-mondiale e post-mondiale ricordate la partita contro il Monza il fatto che Romero fosse partito dal primo minuto a Torino contro la Juventus nell'ultima partita prima del mondiale la titolarità anche in Romania contro Cluj avrebbe giocato anche la gara d'andata, secondo me, contro Cluj se non fosse stato espulso ingenuamente contro il Feyenoord nell'ultima gara di Europa League secondo me avrebbe giocato anche l'andata contro Cluj quindi il minutaggio di Luca Romero in realtà era aumentato grazie agli infortuni di Immobile ho sentito un rumore strano grazie agli infortuni di Immobile aveva addirittura scavalcato Cancellieri nelle gerarchie di Sarri poi all'improvviso, dopo febbraio è tornato a giocare Cancellieri è tornato a subentrare è partita in corso Cancellieri Luca Romero credo non si sia mai neanche riscaldato durante le partite e questo mi fa pensare questo mi fa riflettere secondo me ipotizzo secondo me sono arrivate delle indicazioni da parte della società negli ultimi mesi società che ha deciso di non assecondare quelle che sono le richieste di Ramadani e quindi di non rinnovare il contratto di Luca Romero ragazzi a me dispiace a me dispiace, a me dispiacerebbe se così fosse perché comunque abbiamo visto anche dal gol che ha segnato Romero contro il Monza a novembre che i calciatori erano molto legati a lui i calciatori sono molto legati a lui gli stessi tifosi l'Olimpico è letteralmente esploso al gol di Romero contro il Monza io non ho mai visto l'Olimpico esplodere così quest'anno neanche al gol di Luisa Alberto contro la Sampdoria sotto l'incrocio neanche al gol di Zaccagni decisivo contro la Juventus l'Olimpico non è mai esploso come ha fatto al gol di Romero contro il Monza perché c'è questo tipo di affetto d'altronde parliamo comunque di un calciatore che ha del potenziale e si vede che ha del potenziale è uno che scende in campo sempre con personalità con carattere, con grande carattere e con voglia di mostrare e di dimostrare tra l'altro penso che il prossimo anno a sostituirlo numericamente sarà Diego González il paraguayano che in questo momento gioca nella Primavera B con la Lazio Primavera e che sta facendo la differenza nella Primavera B tra l'altro è stato acquistato a titolo definitivo proprio un mesetto fa quando il minutaggio di Luca Romero è iniziato nuovamente a scendere 2 più 2 fa 4 è uno che sta facendo la differenza nella Primavera B io ho visto delle partite della Lazio Primavera ed è uno che non è un passo avanti è due passi avanti rispetto ai suoi compagni di squadra e rispetto agli avversari quindi è uno che secondo me farebbe la differenza anche nella Primavera A credo che il prossimo anno verrà promosso in Prima Squadra e prenderà il posto appunto di Luca Romero è uno che non è uguale ma è molto simile a Luca Romero per caratteristiche è mancino gli piace partire da destra ma gli piace giocare anche molto centrale lui è più un trequartista rispetto a Romero diciamo che gli piace giocare nella posizione in cui giocava Zaccagni nel ruolo che ricopriva Zaccagni nel Verona di Juric quindi dietro la punta è uno molto tecnico quindi è un calciatore che secondo me farebbe impazzire Sarri sono quei classici calciatori di talento quei giocatori di qualità tecnici che piacciono a Sarri e quindi ho ragione di credere che sarà lui a prendere il posto di Luca Romero il prossimo anno ci sono tutti segnali che portano a pensare al fatto che Luca Romero non rinnoverà il contratto con la Lazio purtroppo ripeto purtroppo però io farei la stessa cosa se le richieste dei ramadani continuassero ad essere queste la stessa cosa ditemi cosa nei messaggi nei commenti mettete un like se il video vi è piaciuto iscrivetevi al canale se per caso non l'avete ancora fatto e noi ci vediamo successivamente ciao ragazzi forza Lazio grazie a tutti